il milan vince a genoa 1 a 0 contro il rosso blu partita finita tra tantissime polemiche anche perché negli ultimi dieci minuti è successo praticamente di tutto aggiungiamo anche 20 perché ci sono stati anche 10 bar 12 minuti di recupero innanzitutto inizio facendo i complimenti al genoa per la grandissima partita che ha fatto luigi ferraris perché veramente uno spettacolo ieri sera allora il milan ha dato in gol negli ultimi dieci minuti con pulisic dallo stadio mi sono sincero sembrava un gol regolare l'ho rivisto mezza volta sul telefonino e posso dire che con tutta sincerità qualcosa c'è un tocco col braccio sicuramente non è un gol facile da convalidare perché le immagini non sono chiare però diciamo non era del tutto regolare come come gol sull'espulsione di magnan già direttamente dallo stadio aveva avuto la percezione che l'uscita era stata un po' azzattata poi rivedendo le immagini sul telefonino la gamba alta ci sta e quindi l'espulsione anche giusta poi diciamo l'arbitro non ci ha capito più nulla in quei minuti finali infatti sull'espulsione del portiere non ha dato la regola del vantaggio alle hao che era lanciato in porta e quindi poteva arrivare anche il 2 a 0 e non ci sarebbe stato quel finale caotico dove con girou in porta al posto di magnan ha fatto quel miracolo su puskas niente da aggiungere il milan ha vinto la qualità l'hanno fatto l'ha fatta più che altro la panchina perché ovviamente i cambi del milan rispetto a quelli del genoa hanno dato più vitalità al gioco rosso nero la differenza si è vista in campo per quanto mi riguarda e per quello visto ieri sera lo stadio il pareggio sarebbe stato un risultato più giusto perché il genoa ha lottato e ha dato fino da torcere al milan alla fine però è arrivata questa vittoria ci prendiamo i tre punti il primato in classifica dopo il derby in campionato il milan ha vinto praticamente tutte ha pareggiato le due di cento slig che meritava di vincere con più cattiveria sotto porta il gol sarebbe arrivato quindi prendiamoci questi tre punti ora c'è la sosta siamo primi classifica con due punti sull'inter il campionato è lungo subito dopo avremo la juventus senza magnan e anche senza eto hernandez che sinceramente mentalmente deve fare uno step in più perché entrare in campo e dopo 15 minuti fare quattro falli sapendo che si è già diffidato beccarti anche la munizione saltare la partita contro i bianconeri diciamo a livelli a quei livelli a livelli di un giocatore come teo hernandez potre non si c'è non lo accetto e sinceramente poteva benissimo evitare però ora godiamoci questa sosta con il primato in classifica poi dopo si penserà a una settimana abbastanza tosta perché abbiamo la juventus in campionato il psg in champions e poi il napoli in campionato comunque sempre forza milano grazie a tutti grazie a tutti